Questa è una notizia pubblicata dalla nuova Sardegna.it Coronavirus in fuga dal nord Italia alla Sardegna in 11.000 si autodenunciano Erano stati 11.000, abbiamo dato il conto anche per la Sicilia mi pare, esatto Poi c'erano stati 2.000 in Puglia, 1.500 in Calabria E poi un'altra notizia, fuori senza motivo 161 persone denunciate ai carabinieri Sono complessivamente 161 le persone per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità Nella prima giornata dei controlli sul decreto Io resto a casa Cioè persone che hanno presentato l'autocertificazione e non c'erano delle motivazioni valide Perché sappiamo che il decreto del governo dice che tu puoi andare in giro Con un foglio, un'autocertificazione E che puoi spostare nel tuo territorio da un comune all'altro però con delle motivazioni precise 161 sono quelle risultate Solo nel primo giorno dei carabinieri Controllate dai carabinieri che non avevano quei requisiti Allora